Dal notaio al farmacista, passando per l'armatore, l'ortopedico, l'imprenditore, il sarto, il pasticcere, il politico. Per ogni categoria professionale da oggi esiste una cravatta dedicata, con tanto di riproduzione ironica sul codino e motivo ripetuto sulla seta. E la novità assoluta per il 2014 della Maison Cilento di Napoli, la storica cravatteria e sartoria partenopea che ha fatto delle cravate la propria forza. Questa collezione è un tributo all'Italia che lavora, ha sottolineato Ugo Cilento, ottava generazione della famiglia Cilente autore della collezione. Una celebrazione, anche un po' ironica, di tutte le professioni e le tipologie di uomo. C'è persino il playboy. Sono oltre 40 i temi differenti riproposti sulle cravate, che sono state scelte personalmente nei disegni e nella trama, con l'obiettivo di dare vita ad un'opera colossale che rappresenta un vero e proprio inventario delle professioni, filtrato attraverso il punto di vista dello stilista, che abbiamo ascoltato ai nostri microfoni. Nasce dedicata all'Italia che lavora, all'Italia del professionista italiano, dell'imprenditore italiano. Dopo circa un anno, un anno e mezzo di lavoro per raggiungere questo livello qualitativo sia di dettaglio sia di confezione. Grazie a tutti.